Forse anche Sony potrebbe attuare una strategia simile a quella di Microsoft, anche se un po' ne dubito. Ci sono delle possibili novità barra rassicurazioni intorno all'ecosistema Xbox e poi, dopo tanto attendere, è arrivato finalmente l'annuncio del trailer del DLC di Elden Ring ed è anche vicinissimo. Questo è altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast e grazie mille a Instant Gaming per aver sponsorizzato questo episodio. Bene, gente, voglio cominciare subito da questa cosa qui, ok? Quanto tempo è che stiamo aspettando il DLC di Elden Ring, il famosissimo Shadow of the Earth 3, da un bel po', in realtà. E molti si chiedono come mai non se ne è saputo quasi più niente, che cosa stanno facendo, ci sono problemi, oppure stanno preparando una cosa gigantesca, no? E queste cose sono tutte quante vere ancora oggi, queste domande, ma a quanto pare forse non dovremo attendere molto per avere le risposte, anzi poche ore, perché... Elden Ring, Shadow of the Earth 3, data e ore del primo trailer, manca pochissimo. Esattamente questo. Allo scoccare della mezzanotte, i canali social ufficiali di FromSoftware si sono aggiornati con la notizia che i fan stavano aspettando ormai da tempo. Il primo trailer di Elden Ring, Shadow of the Earth 3, arriverà tra pochissimo. Come annunciato su ex Twitter, il filmato in questione verrà mostrato proprio oggi, mercoledì 21 febbraio 2024, alle ore 16 del fuso orario italiano. Questo significa che mancano solo poche ore, prima di poter finalmente scoprire qualche dettaglio in più sull'espansione di Elden Ring. Sappiamo anche la durata. Stando a quanto dichiarato al team di sviluppo nipponico, la presentazione avrà una durata di 3 minuti e dovrebbe essere incentrata sul gameplay. Questo significa che questi pochi secondi saranno densi d'azione e ci permetteranno di scoprire quali contenuti verranno introdotti nel Souls-like open world al momento del debutto del contenuto aggiuntivo. Non ci sono dettagli in tal senso, ma è lecito aspettarsi al termine del gameplay reveal trailer che arriverà anche l'annuncio della data d'uscita che potrebbe non essere poi così lontana. In effetti ci sono stati parecchi rumor al riguardo e ovviamente lo stesso giorno, cioè oggi, c'è anche il Nintendo Direct di febbraio 2024 che, a sto giro ve lo voglio ricordare velocemente, è alle ore 15. Quindi, ve lo anticipo subito, faremo una live proprio alle 15, un po' prima, e vedremo prima il Nintendo Direct e subito dopo vedremo il trailer dell'espansione di Elden Ring. Ora, parliamo un secondo di questa cosa, ragazzi, perché gli ho voluto dedicare un po' di spazio? Perché in realtà questa espansione potrebbe essere piuttosto ambiziosa. Da quello che erano venuti fuori come rumor, eccetera, dovrebbe esserci un'intera nuova area e questo potrebbe, dato alla densità del mondo di Elden Ring, potrebbe rappresentare una quantità di contenuti nient'affatto indifferente. Si vocifera anche di qualche altra modalità e di qualche altra cosa che dovrebbe cambiare non solo la quantità di cose offerte da questa nuova area, ma anche la quantità di cose che possono essere fatte nell'area del gioco principale. Ora, non voglio andare troppo nel dettaglio perché, come forse sapete, se mi seguite da un po', io Elden Ring l'ho soltanto provato e giocato, considerando la mia, diciamo, quanto sono ostico ai Souls, ai Souls-like di varia natura e quel tipo di prodotti From. Però, insomma, è un gioco abbastanza famoso, ne abbiamo parlato tante volte, ho ovviamente visto tante recensioni e contenuti a riguardo e mi pare di capire che ci siano già tanti contenuti del gioco principale, che alcuni hanno giocato per veramente decine, 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 se non centinaia di ore. E questa espansione, da quello che si è capito e considerando anche la quantità di tempo che è stata necessaria per metterla a punto, dovrebbe offrire davvero molto. Non dovrebbe essere tanto un DLC, diciamo, percepito come una chicca in più, dovrebbe essere percepita davvero come una grossa espansione e una quantità molto corposa di contenuti che dovrebbero arrivare per questo gioco. In ogni caso, lo sapremo tra non molto, tra poche ore, quindi di nuovo vi do appuntamento per la live che ci sarà tra poche ore, in cui vedremo prima il Direct e poi scopriremo finalmente quali saranno le novità per questo nuovo contenuto per Elden Ring. Ti piace comprare tanti giochi, vero? È davvero un peccato che i prezzi dei giochi siano così alti che l'operazione chirurgica al cuore di cui tua nonna ha estremamente bisogno dovrà necessariamente aspettare per cause di forza maggiore. Se solo ci fosse un modo per avere i giochi a un prezzo più basso, aspetta, ma c'è! Puoi usare Instant Gaming. Instant Gaming è un sito su cui puoi comprare chiavi di gioco per molteplici piattaforme ad un prezzo scontato rispetto agli store ufficiali. È serio, testato, sicuro e sempre ricco di tante scelte. Quindi puoi comprare tanti giochi, far sì che tua nonna continui a vivere, fare cose e non incappare nei malnati. Sul sito trovi periodicamente offerte, promozioni, giochi appena usciti, giochi in preordine e anche card degli store PlayStation e Xbox con cui puoi pagare di meno anche se compri altrove. In descrizione trovi il link per acquistare su Instant Gaming, così risparmi hai ancora una nonna e le cose. Compra anche tu su Instant Gaming. Ora torniamo alle news. Negli ultimi giorni abbiamo parlato assai di Xbox e di Microsoft per tante ragioni e ovviamente ancora ci sono tante risposte che devono essere date. La strategia l'abbiamo un po' scoperta, un po' no, ne abbiamo già discusso, non è questo il punto. È solo che sono un po' le cose che sono rimaste come interrogativi nonostante l'evento, ma a dir la verità ci sono rimasti degli altri interrogativi che dopo dei leak che sono arrivati e dopo quello di cui si è discusso, anche altre cose che sono state dette proprio ufficialmente da Xbox e insomma da Microsoft e allo stesso Phil Spencer molti hanno ancora un sacco di punti interrogativi in testa. Ce ne sono un paio che potrebbero essere stati un tantinello fugati nelle ultime ore. Uno secondo me un po' e un altro secondo me un po' meno, però vale la pena parlarne. Vediamo un po'. Vi ricordate la questione dei giochi fisici su Xbox che a quanto pare è stata pesantemente tagliata la divisione che si occupa proprio di questo? Però Xbox continuerà a supportare i giochi fisici, promette Phil Spencer. Il CEO di Microsoft Gaming ha affermato che non hanno ancora intenzione di abbandonare il supporto fisico per le console Xbox. Questo ancora mi lascia un po' perplesso comunque. Ha affermato che all'interno della società non hanno ancora intenzione di abbandonare il supporto fisico per le console Xbox. Una nuova intervista su Gamefile di Steven Totilo, grazie a The Verge, ha affermato che nonostante le già recenti indiscrezioni che si stanno diffondendo in rete in questi ultimi giorni all'interno dell'azienda, non vogliono sposare esclusivamente il digitale. Stanno a Phil Spencer, in quel di Microsoft non sono ancora pronti a rinunciare ai giochi fisici con le console Xbox. Nonostante i giorni scorsi è emersa in rete l'ondate licenziamenti alla divisione che si occupa delle edizioni fisiche dei giochi. Quindi non è necessariamente un rumor, è più una deduzione che molti hanno fatto. Ma Spencer ha affermato che la strategia dell'azienda non dipende dalle persone che passano al digitale, per esistirando inoltre che sbarazzarsi del fisico non è nemmeno una cosa strategica in questo preciso momento, nonostante la maggioranza del pubblico abbia sposato il digitale. Spediamo giochi fisicamente e digitalmente e seguiamo semplicemente ciò che fanno i clienti. Penso che il nostro compito nella gestione Xbox sia quello di fornire le cose che la maggior parte dei clienti desidera. In questo momento la maggior parte dei nostri clienti acquista giochi in formato digitale. E mi pare giusto così. Ok, quindi, diciamo che chiarisce abbastanza, non significa che questo rimanga in eterno ovviamente, ma è una speculazione per il futuro, no? Nell'immediato, se qualcuno ha paura che le copie per Xbox spariscano a breve termine, magari no. Ora, per quanto riguarda invece i giochi Activision Blizzard, abbiamo visto che stanno per rilasciare Diablo 4 sul Game Pass, che è un passo molto importante, ma gli altri giochi e soprattutto il Call of Duty di quest'anno arriverà su Game Pass? Ora, quello che vi sto per leggere dice più o meno di sì, ma secondo me è ancora da prendere con le pinze questa cosa. Comunque, vediamo un po'. Call of Duty 2024 al day one su Xbox Game Pass, Phil Spencer sembra suggerirlo. Ovvero, il corso della recente intervista, che mi pare sia la stessa oltretutto, il numero nella divisione gaming di Microsoft ha dichiarato di avere tutta l'intenzione di portare tutto il catalogo, Zenimax e Activision Blizzard su Xbox Game Pass e di far arrivare tutti i futuri titoli al day one nella libreria del servizio ad abbonamento. Sembrerebbe però che sia impossibile recuperare in poco tempo e ci vorrà un po' prima che tutti gli episodi di Call of Duty possano diventare disponibili per gli utenti abbonati al servizio del colosso Redmond. Certo, Diablo 4 sui Game Pass, quello che sta per arrivare, rappresenta un primo pass in questa direzione e non si esclude che già le prossime uscite, incluso il nuovo Call of Duty in arrivento alla fine dell'anno, possano essere disponibili sin da subito. Però le voci sul mancato arrivo dei futuri COD al day one su Game Pass siano a essere tutto infondate perché Microsoft non ha ancora l'intenzione di cambiare la sua strategia. Quindi, da quel punto di vista, ma francamente era molto dubbio anche il rumor che c'era al riguardo e l'abbiamo detto subito, pare di no. Ora, riguardo a questo discorso, però, secondo me, va messo un po', diciamo, nel contesto, ok? Parliamo della prima cosa, ovvero dei giochi in formato fisico che molti hanno paura che spariscano del tutto. Microsoft sembra aver confermato, quindi, che al momento non hanno nessuna intenzione di abbandonare il supporto fisico. Quindi, secondo me, perlomeno da qui alla fine della generazione, quasi sicuramente, non credo che Microsoft voglia abbandonare del tutto la cosa. Per la prossima generazione ho ancora un punto interrogativo anch'io, però per adesso sembra confermare questo. Quindi, per chi ha paura della totale scomparsa del supporto fisico per i giochi Xbox, perlomeno per adesso sembra di no. Per il futuro non lo so, ragazzi, perché onestamente la quantità di copie che vengono vendute fisiche del lato Xbox è veramente bassa, molto più bassa che per la concorrenza. Non so che cosa succederà nel futuro, ma per adesso, insomma, si può stare un po' tranquilli. Per chi ha un Xbox oggi, proprio adesso. Per quanto riguarda il Call of Duty al 2024, onestamente, le voci che parlavano di un cambiamento nel Game Pass e dei nuovi Call of Duty che potessero non arrivare, tutto quanto, era un blocco di rumor che si riferivano più che altro a un forse cambiamento in arrivo nell'intero ecosistema del Game Pass. Quindi, in realtà, se hanno confermato che il Game Pass rimarrà così al 100%, ovviamente tutto il resto decade. E anche quello, ovviamente, era una cosa un po' in dubbio, perché erano dei rumor che, per carità, arrivavano da fonti anche di una certa importanza, ma fanno parte di una strategia di un'azienda che può cambiare e che ne sappiamo, magari Microsoft è tornata indietro anche all'ultimo, ci sta perfettamente, oppure i rumori erano falsi, anche questo ci sta perfettamente. Riguardo a Call of Duty, però, per il 2024, è un discorso un po' diverso, perché ha a che vedere più o meno con i tempi. Ovvero, lo sviluppo di un porting dedicato, lo sviluppo di una diversa strategia per i giochi, Activision Blizzard, anche post acquisizione, non necessariamente copre tutto quanto subito e tutto quanto allo stesso tempo. Io non so che piani abbiano per Activision Blizzard, probabilmente stanno partendo dai giochi un po' più recenti e l'arrivo di Diablo 4 sul Game Pass ne è la conferma. Allo stesso tempo, però, ovviamente, Diablo 4 un po' ha bisogno di nuovi giocatori, d'accordo? Call of Duty sul Game Pass avrebbe sicuramente una spinta in più, però sono maturi i tempi? Io non dubito che il Call of Duty dal 2025 in poi arriveranno su Game Pass, perlomeno stando a quello che è l'attuale strategia invariata del Game Pass. Su quello del 2024, però, mi riservo di avere ancora un punto interrogativo, perché non so se francamente fanno proprio in tempo fisicamente ad adattare la strategia, i porting e tutto quanto. Magari sì, eh? E magari, dato che Call of Duty uscirà probabilmente, come da tradizione, nell'ultimo trimestre o su per giù dell'anno, forse anche un po' prima, effettivamente. Magari sì, magari il tempo è più che sufficiente, però io questo dubbio ancora ce l'ho, e non è che Phil Spencer l'abbia chiarito al 100%, è per questo che, secondo me, è un po' ancora vaga questa cosa. Comunque, bene così per adesso, che abbiamo qualche elemento in più, e secondo me nei prossimi mesi si chiarirà ancora di più, quando verranno fuori le date dei famosi giochi in esclusiva, che arriveranno su altre piattaforme, si sapranno i titoli, si sapranno le date, si sapranno le piattaforme, vedremo quanti e quali giochi arriveranno di Activision Blizzard, sul Game Pass, eccetera, eccetera. Vediamo se ripetono esattamente quello che hanno fatto con Zenimax, oppure magari cambiano qualcosa, magari c'è qualcosa di diverso, o se da qui alla fine del 2024 qualche cambiamento per il Game Pass arriva davvero. Non lo sappiamo, per ora sono cose che, stando a bocce ferme, sembrano essere, diciamo, confermate, quindi stiamo così. Vediamo che cosa succede. E ora andiamo al lato Sony, perché ci sono un paio di cose interessanti. Una, secondo me, è un po' dubbia, anche qui, e un'altra che, in realtà, diciamo, la dice lunga su quello che sta succedendo, soprattutto al lato Bungie, ok? Sappiamo che negli ultimi periodi Sony, o meglio, facciamo così, parliamo prima di Bungie. Bungie ha avuto delle difficoltà non indifferenti nell'ultimo periodo e già era venuto fuori, erano venuti fuori dei rumor che parlavano addirittura di Sony che avesse la tentazione di intervenire più direttamente all'interno di uno studio che, stando alle carte che conosciamo, dovrebbe rimanere un tantino all'indipendente e pubblicare su un po' tutte le piattaforme, eccetera, eccetera, no? E queste cose qui, onestamente, lasciano un po' pensare. E abbiamo una conferma di questo. Ma ne abbiamo anche un'altra, una prospettiva interessante, anche se secondo me è un po' deboluccia. Vediamo di che si tratta. Bungie deve assumersi la responsabilità per i tempi di sviluppo per il presidente di Sony. Continua la, quella chiamano, guerra interna. Secondo me è un po' esagerato, però, neanche troppo. Tra Sony e Bungie, con il presidente Totoki che chiede alla compagnia di Destiny di assumersi la responsabilità dei tempi di sviluppo. Chiroki Totoki, il presidente di Sony e capo di PlayStation, ha rivolto parole, non proprio lusinghiere, verso Bungie, dichiarando che deve assumersi la responsabilità per i tempi di sviluppo sia deve migliorare dal punto di vista dell'affidabilità. E ha toccato l'argomento durante una sessione di domande e risposte dopo la pubblicazione e il discusso resoconto finanziario. Il presidente ha dichiarato di essere stupito dalle capacità di Bungie nello sviluppo di videogiochi, ma che può migliorare dal punto di vista degli affari. E dice, ho fatto visita a Bungie, ho avuto una riunione con la dirigenza, ha dichiarato. E ho visto che i lavoratori dello studio sono molto motivati, mostrano segni di grande creatività, un'enorme conoscenza dei live service. Comunque sento anche che c'è spazio per dei miglioramenti dal punto di vista degli affari. E ha spiegato due aspetti in cui Bungie deve migliorare. Gestione delle spese e la già citata assunzione di responsabilità per i tempi di sviluppo. Spero di proseguire a dialogare e trovare delle buone soluzioni, ha concluso il presidente. Tra la risposta di Totò che risale la settimana scorsa, ma la prima traduzione delle sue parole, fornita da Sony, parlava in generale dei PlayStation Studios. Ora è arrivata la traduzione rettificata, sempre di Sony che invece punta il dito direttamente contro, tra virgolette, Bungie. Non è un buon segno per la compagnia di Destiny, qui si dice. Magari è un po' esagerata questa prospettiva, però non troppo secondo me, ok? Ed è in linea con quello che avevamo sentito. Poi vedremo se è davvero così, ma un po' me l'aspetto. Ora sentite quest'altra però, che è molto interessante se fosse la lettura corretta, ma io ve la leggo. Sentiamo che cosa pensate voi. Sony, oltre PS5 e PC c'è di più? I Rocky Totoki guarda ad altre piattaforme. Nella versione trascritta nella lingua inglese è la discussione intavolata dai Rocky Totoki con gli azionisti, quindi la stessa di prima. Le dichiarazioni, l'atto esponente del colosso tecnologico giapponese che sono già rimbalzati in rete i giorni scorsi sembrerebbero assumere un significato ancora più ampio. Se nella prima versione il documento di Sony si evince la volontà di Totoki di puntare sempre di più sul PC con i giochi PlayStation, e di questo ne abbiamo già ampiamente parlato, dall'ultima versione invece, resa pubblica dai curatori del portale in lingua inglese iSony.com, emergono delle sottili ma importanti modifiche alla dichiarazione del CEO della compagnia nipponica. In un preciso passaggio del Q&A dice Un altro fattore di crescita saranno i nostri videogiochi proprietari, titoli forti con i quali amplieremo i nostri margini di profitto su PS5, PC e altre piattaforme. Crediamo che tutto ciò rappresenti per noi una grande opportunità di miglioramento dei margini di profitto e intendiamo perseguire questa strategia in modo aggressivo. Dovevamo quindi una distinzione più chiara tra PS5, PC e altre piattaforme, che non era segnalata al testo condiviso originariamente da Sony Japan. Da qui l'interesse alla community per le forti implicazioni sul possibile futuro a molti piattaforme e videogiochi proprietari del team PlayStation. Immagino che l'abbiate intesa, no? Ovviamente legge una cosa del genere e molti avranno pensato questo. Ora, andiamo con ordine e parliamo prima di Bungie. Abbiamo visto che Bungie, come vi stavo dicendo durante l'introduzione e come abbiamo detto già tante altre volte, non è che è proprio in un momento fantastico e dopo quello che è successo proprio all'interno della comunità di Destiny, Bungie ha parlato apertamente di uno dei momenti più critici nella società. Quindi, quello che ho sentito dire da Totoki non mi sorprende affatto. C'è ovviamente da tarare bene le sue parole, ok? Guerra interna mi pare esagerato, però uno che durante un Q&A con gli azionisti ti dice che Bungie ha ancora margini di miglioramento e che devono prendersi la responsabilità per i tempi di sviluppo dei videogiochi. Ecco, messa in questo contesto, la frase non è proprio leggerina, d'accordo? Perlomeno per come l'ho letta io, fatemi sapere se anche voi pensate più o meno alla stessa cosa. Quindi io credo che ci sia un problema interno con Bungie e che sia Bungie sotto pressione proprio per rimettere un po' le cose a posto. Quindi, rivedere le spese, offrire più prodotti e più prospettive e soprattutto in tempi un po' più certi. Credo che ci sia un po' di casino al momento, ok? Però non è una novità, perché ne abbiamo già parlato e abbiamo già visto come effettivamente la cosa interna sia un po' problematica al momento. Ma non possiamo spingerci oltre perché ovviamente non abbiamo elementi per farlo. Per la seconda cosa, invece, io sarei un po' più attento. Io non so se Sony vuole veramente spostare alcuni giochi dall'esclusività totale che aveva una volta per i giochi PlayStation a poi il passaggio a una pubblicazione su PC a distanza di, quanto? Due, tre anni in media. Ha una totale multipiattaforma per alcuni dei giochi fortemente proprietari perché c'è proprio scritto così. Onestamente, mi pare difficile che decidano di pubblicare God of War su Xbox. Capite che cosa intendo? La trovo difficile come cosa e se così fosse sarebbe una di quelle notizie di cui discutere un bel po'. Avete presente tutto il casino di Microsoft di qualche giorno fa? Ecco, io penso che sia pari pari quello che potrebbe succedere nel corso di... Secondo me, però, potrebbe non essere così, ma sapete perché? Perché magari si riferisce ai live service e bisognerebbe ricordarsi che Sony ha, in uscita, un certo numero che magari non sarà una dozzina, forse è stato ridimensionato davvero, la quantità di live service che stanno per uscire, però stanno per uscire e dovrebbero essere dei progetti piuttosto importanti perché fanno parte veramente di una nuova strategia di Sony dell'epoca Ryan che mirava a realizzare dei prodotti che dovrebbero guadagnare di più dei first party alla God of War, alla The Last of Us, eccetera. Ecco, quindi ambiziosi, assai, sull'ordine dei Genshin Impact o dei Warzone. Giusto? Bene. Io credo che questa affermazione qua si possa riferire più a quelli e avrebbe senso, perfettamente, che un futuro pieno live service molto ambizioso di Sony venisse pubblicato su PS5, ovviamente, anche su PC, ma magari anche su Xbox. O che ne so, se si tratta di un gioco particolarmente leggerino, diciamo disponibile da giocare un po' su tutte le macchine, anche per all-gen o addirittura per PC di fascia piuttosto bassa, magari potrebbe persino uscire su Switch o potrebbe uscire su Switch 2, per dirne una, no? Magari quindi solo la generazione corrente ma la nuova console Nintendo. È ovviamente una mia speculazione, ragazzi, e vale quello che vale. È un mio pensiero e vale come il vostro. Ditemi che cosa ne pensate voi, ma a sentire queste parole ho ritenuto che fosse più probabile questa come cosa, piuttosto che l'arrivo delle esclusive che vengono potentemente identificate come esclusive PlayStation che arriveranno non solo su PC ma anche su Xbox o su Switch o che dir si voglia. Come la vedete voi, ragazzi, fatemi sapere. E ora il commento del giorno, ragazzi. Sono un birbantello, ho detto che non l'avrei più fatto, invece l'ho fatto di nuovo. Buongiorno Chris, che spettacolo vederti così fresco e pimpante, sono troppo felice. E va bene, è un altro di quei segmenti in cui parlo un pochettino di me, ma non posso non farlo, ragazzi, perché è veramente bello aver risolto un problema così grave come quello dell'insonnia che ho avuto negli ultimi tre anni, santi Dio. E sì, ovviamente ho veramente tante energie e mi vedete più pimpante, senza alcun dubbio. Poi, per carità, mi sono anche reso conto che non è uno schioccare le dita e tutto a posto istantaneamente. Questi tre anni mi sono reso conto anche che mi hanno pesato. E quindi sto lo stesso facendo un pochino fatica, ma sta andando meglio di giorno in giorno e quindi sono felicissimo così. E volevo cogliere l'occasione per ribadirvi una cosa che già un po' vi ho, diciamo, sottolineato, ma nell'immediato futuro vedrete arrivare un sacco di contenuti che vi ho promesso da tanto tempo e che per varie ragioni altamente comprensibili, dopo quello che vi ho detto, non sono ancora arrivati. Quindi una marea di recensioni che sono rimaste indietro, tanti vlog, tanti approfondimenti che volevo fare e che non ho mai fatto. Qualche prodotto che riguarda anche le canzoni o cose del genere e forse anche qualche altra cosa. D'accordo? Quindi, e magari anche il tempo, perché una volta che hai risolto questa cosa della routine diventa tutto un po' più semplice, hai tempo per pensare anche al futuro e anche qualche rinnovamento del format del canale, del format delle news, qualche cosa in più, qualche cosa fatta diversamente. Colgo l'occasione anche per dirvi avete qualche cosa che vorreste, qualche cambiamento che vorreste, un pensiero che avete per la testa, che vorreste vedere come format sul canale, tutto quello che vi pare, ma se avete suggerimenti questa è l'occasione giusta per farlo, perché adesso sto recuperando velocemente le energie e non vedo l'ora di fare un sacco di robe. Quindi, ragazzi, sì, perdonatemi se mi sono preso di nuovo, ho rubacchiato di nuovo questo spazio dedicato al commento del giorno per parlare di me, ma consentitemelo ancora una volta in questo preciso periodo, poi, insomma, non arriverà più, credo. ti piacciono le news? Allora non tirarti indietro come i malnati, se ne hai la possibilità, puoi abbonarti al canale, diventa sponsor delle news, così Chris può fare più news, ancora meglio, perché non è più povero. Abbonati al canale, così Chris è felice, tu supporti le news e le cose. Ora, torniamo alle news. E ora passiamo alle news a ruota, ragazzi. PS5 Pro, ne abbiamo parlato tante volte, giusto, a fine anno per gli analisti di CNBC e Switch 2 annunciata a giugno, addirittura? Ok. Allora, dopo aver tagliato le previsioni vendite PS5 per l'anno fiscale in corso, per il prossimo anno Sony ha necessariamente bisogno di mantenere alta l'attenzione delle sue console, secondo gli analisti di CNBC è il lanciare PlayStation 5 Pro entro la fine di quest'anno, ok? PS5 sta per iniziare la seconda fase del suo ciclo vitale, per questo l'azienda si aspetta un graduale declino delle vendite. PS4 Pro, è stata lanciata tre anni dopo il debutto di PS4, i tempi sono ormai maturi per PS5 Pro e Sony si starebbe preparando, Sergan Toto di Canton Games ha dichiarato a CNBC che Sony si starebbe preparando per lanci PlayStation 5 e poi nella seconda metà del 2024. Niente che non abbiamo già sentito, ragazzi, arriva semplicemente da un'altra fonte, ok? Poi, il giornalista brasiliano P.H. Brasil, prima di diffondere il rumor sul rinvio di Switch 2 al 2025, specifica come Nintendo abbia un Direct in programma ad aprile e un Indie World a marzo, dopo il Nintendo partnerdari del 21 febbraio. Nintendo Switch 2 invece verrà svelata con il mese di giugno secondo le sue fonti. Questa potrebbe essere una cosa importante, però dopo tutti i rumor che abbiamo sentito che indicavano marzo con la presentazione di Switch ve l'ho voluta buttare là come una voce fuori dal coro, ma vediamo se nei prossimi giorni arriverà qualcos'altro, ok? Per ora non voglio approfondirla troppo come cosa perché l'ho sentita solo qui per adesso, ma se è vera arriveranno altri rumor sicuramente e allora ne parleremo meglio. Per adesso è così. Poi, PS5 Pro, fine anno, per il prezzo invece calerà, ecco, gli analisti dicono in sostanza di no e non è una cosa difficile da pensare perché è stato lo stesso Iroki Totoki che ha detto che i tagli di prezzo al momento non sono fattibili, no? E l'analista senior di Omdia ritiene che Sony non ritoccherà a ribasso il prezzo di vendita al pubblico dei modelli basi di PlayStation 5 in funzione del lancio di PS5 Pro il che sarebbe una cosa strana è vero lato generazionale però PS5 Pro secondo loro non comporterà i stavolgimenti dell'attuale politica dei prezzi di Sony Sony intende ottimizzare le vendite ponendo sempre l'accento sull'equilibrio con i profitti pertanto è uno scenario in cui Sony si trova a sperimentare un calo costante delle vendite hardware anche dopo aver commercializzato PS5 Pro risulta essere un'ipotesi molto plausibile quindi secondo molti la strategia è questa qua e francamente è stata la stessa Sony nelle sue comunicazioni a darci questa impressione quindi probabilmente andrà così non un buon una buona notizia per le tasche degli utenti e dei content creator che dovranno comprarla va bene però vabbè insomma è quello che sappiamo giusto? per adesso di nuovo analisti rumor non sappiamo niente su PS5 Pro di ufficiale però sono veramente tanti i rumor quindi poi Eldiverse 2 l'aggiornamento gratis con i Mac sta per arrivare ebbene sì uno dei sviluppatori di Arrowhead ne ha parlato proprio nel canale Discord ufficiale stanno al membro da Software House il contenuto aggiuntivo è già pronto da tempo e richiede solo una fase di pulizia finale c'è l'impossibilità però di finalizzare i lavori sul DLC perché chi dovrebbe occuparsi l'impegnato a lavorare sulle problematiche che stanno affliggendo i server sin dal lancio in sostanza il contenuto è pronto avrebbe bisogno dell'ultima diciamo sistematina ma al momento stanno risolvendo dei problemi e quindi vabbè ok in ogni caso ragazzi il gioco sta andando benissimo ancora oggi nonostante i problemi nonostante un paio di controversie che ci sono state che secondo me però sono un po' minori e vedremo cosa ne esce fuori gli sviluppatori gli sviluppatori hanno comunicato tantissimo con l'utenza finora e quindi la cosa mi sembra buona quindi va bene vedremo quando arriverà poi è in shroud ed è un successo sono stati superati 2 milioni di giocatori su steam e sono tantissimi per questo gioco qui ho ben ultime ore traguardo i 2 milioni di giocatori su pc dove è disponibile esclusivamente su steam in early access un risultato considerevole il quale potrebbe indicare che il titolo sta lentamente finendo i radar dei videogiocatori di tutto il mondo esattamente è un prodotto che mescola meccaniche tipiche survival game alla valheim e altre legate all'esplorazione viste in Zelda Breath of the Wild insomma ne abbiamo già parlato di questo titolo aveva già avuto delle ottime performance al lancio i giocatori lo stavano molto apprezzando a quanto pare la cosa sta continuando e mi fa molto piacere io l'ho soltanto provato un pochino ma mi è sembrato veramente promettente quindi bene così poi la demo di Final Fantasy VII Rebirth pare che stia per espandersi con Junon con l'eloquente messaggio condiviso su Twitter X da Amaguchi si parla di domani introdurremo l'area di Junon nella demo quindi in sostanza oggi se ho ben capito la nuova sezione giocabile di Dawn of New Era in Junon si accompagna delle modifiche specifiche per la demo consentendo ai giocatori immergersi ancora di più in esperienza offerta a Battle System di Final Fantasy VII Rebirth previsto come sappiamo il lancio per il 29 febbraio su PlayStation 5 e l'aggiornamento della demo arriva oggi che è il 21 quindi diciamo che se avete voglia di provare dei contenuti extra per la demo lo potete fare anche da oggi d'accordo? Dopodiché Game Pass Man Eater e Tales of Arise ci sono dei nuovi giochi gratis di febbraio Man Eater probabilmente già lo conoscete ok? Tales of Arise anche però il fatto che stia arrivando su Game Pass è una cosa importante ok? Ed è già arrivato Man Eater arriva il 27 ma Tales of Arise già c'è quindi se siete abbonati al Game Pass è un gioco assolutamente da provare ragazzi io l'ho soltanto provato d'accordo però è veramente figo ok? arriverà anche Madden 24 arriverà Indivisible Space Engineers quindi è una mesata piuttosto interessante lato Game Pass e poi non solo Nintendo Direct è stato annunciato anche un Pokémon Presence data e ora dell'evento ovvero le 15 italiane di martedì 27 febbraio i contenuti dei Pokémon Presence non sono stati resi noti e Game Freak e The Pokémon Company potrebbero togliere il prossimo gioco della serie Leggende Pokémon o magari annunciare il tanto rumoreggiato remake di Pokémon Bianco Nero l'unica cosa è che ve l'ho messa qui in fondo perché di Game Freak si parla anche per il Direct dai rumor quindi no lo so questa cosa cozza un po' quindi comincio a pensare che forse Game Freak non ci sarà nel Direct di oggi vabbè l'ultima cosa per oggi Borderlands alla fine esce ad agosto al cinema prima immagine per il film tratto dal videogioco People ha pubblicato due immagini esclusive di Borderlands il nuovo film di Ellie Roth e Joe Crombie tratto dall'omonima serie videogiochi di Gearbox Software le foto mostrano alcuni personaggi principali del cast con indosso costumi e maschere e offre un primo piano da protagonista Lilith interpretata a Kate Blanchett il film uscirà nei cinema statunitensi prossimo 9 agosto quindi se siete interessati ragazzi vediamo se ne sapremo qualcosa in più ma se siete interessati alla lore di Borderlands a vedere un film su questo personalmente sapete sì e sono molto curioso sapete dove andarlo a cercare e quando aspettarvelo e per l'offerta del giorno ragazzi ho voluto fare una cosa un po' alternativa oggi ok The Hunter Call of the Wild è un gioco di caccia unico nel suo genere un open world veramente molto realistico mi ricordo di averlo provato questo gioco è molto simulativo quindi non fa tanto per me ma per chi ama i simulativi e a cui piacciono i giochi di caccia questo qua è un gioco assolutamente da considerare e ve lo voglio segnalare perché è in sconto dell'81% ok quindi costa 3,89€ prezzo più che abbordabile quindi se siete tra gli utenti che amano questo tipo di giochi direi che è una buona occasione come sempre vi ricordo che sono parte dell'ufficiale Stand Gaming quindi se prendete il gioco attraverso il link qui sotto in descrizione è un link affiliato a me arriva qualcosina e come sempre è un buon modo per supportare il mio lavoro il canale e il format delle news bene gente è tutto per le news di oggi grazie mille per aver visto questo episodio noi ci vediamo al prossimo come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale seguitemi su Twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon i Stand Gaming e il link a Patreon e anche il link alla playlist con tutte le Crystal News che come sapete escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast a domani ragazzi a domani ragazzi a domani ragazzi a domani ragazzi